Una lite, gli schiaffi, la caduta e la corsi in ambulanza all'ospedale. È successo ieri sera a Trabbia, dove Giuseppe Sunseri, di 26 anni, è stato arrestato dai carabinieri per lesioni aggravate con l'accusa di aver aggredito il nonno tantenne, del quale tra l'altro porta anche il nome. Da una prima ricostruzione, il giovane avrebbe schiaffeggiato l'anziano, che dopo la spinta ha perso l'equilibrio, sbattendo violentemente la testa contro il muro e perdendo i sensi per qualche minuto. Il tutto è accaduto al culmine di una lite nell'abitazione in via Torriglione, dove i due vivevano insieme al resto dei familiari, che dopo il fatto hanno chiamato immediatamente i soccorsi e i carabinieri. Il nonno è stato dapprima trasportato in stato incosciente all'ospedale Cimino di Termini e poi a Palermo, a Villa Sofia, dove adesso è ricoverato in gravi condizioni, mentre il nipote è stato portato in carcere in attesa di nuove e ulteriori disposizioni dell'autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Trabbi e della compagnia di Termini Merese hanno ascoltato fino a tardanotte i testimoni. Per raccogliere le versioni dei fatti, al termine degli accertamenti, il giovane Sunseri è stato portato all'Antonino Burrafato di Termini Merese, dove il giudice per le indagini preliminari dovrà esprimersi sulla convalida dell'arresto. Le accuse nei confronti del nipote dipenderanno dalle condizioni di salute dell'anziano.